E' Aless Beliaschi il vincitore della prima edizione del premio Vazklav Havel attribuito al Consiglio d'Europa a chi si batte per i diritti umani. L'attivista bielorusso è in carcere dal 2011, proprio a causa della sua attività a difesare le libertà fondamentali. A ritirare il premio nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è stata la moglie del dissidente bielorusso. Beliaschi si batte a difesa dei prigionieri politici per una bielorussia democratica. Il regime del dittatore Alexander Lukashenko ha accusato di frode fiscale l'organizzazione fondata dall'attivista. Il premio del Consiglio d'Europa è il simbolo di un passaggio di testimone. L'ex presidente ceco Vazklav Havel scrisse proprio a Beliaschi poco prima di morire.